Buonasera ai nostri ospiti, buonasera all'onorevole Laura Castelli del Movimento 5 Stelle, collegata con noi da Montecitorio, grazie di essere con noi. Il percorso delle riforme, c'è questa vexata questio tra chi vorrebbe che comunque la legge elettorale arrivasse alla fine di un percorso in cui si è messo mano alla Costituzione, passando dunque anche attraverso le modalità di elezione del Presidente della Repubblica e chi invece sostiene che la legge elettorale sia la prima cosa di cui occuparsi. Lei come la pensa? Sicuramente la legge elettorale è stata richiesta da molte forze politiche, ci chiediamo se è davvero l'urgenza del Paese, in ogni caso non possiamo non pensare il fatto che nessuno parli di centralità del Parlamento, stiamo continuando a tirar fuori i saggi, prima i tecnici del governo Monti, poi i saggi di Napolitano e ora i saggi delle riforme costituzionali, quando sono saggi che fanno capo alla partitocrazia e non a una Repubblica, quindi ridiamo vita al Parlamento, quello che nella scorsa legislatura ha legiferato per il solo 4% rispetto alle riforme che sono state fatte. Questo è uno dei punti su cui noi battiamo molto perché non è possibile continuare a delegare a qualcun altro. Noi crediamo che soprattutto sulle riforme costituzionali vada ridata voce ai cittadini e soprattutto non si può mettere in ballo sempre l'urgenza e raccontare la favola dell'urgenza per fare questo tipo di riforme. Sono riforme importanti e non andrebbero fatte in questa maniera. Dal 2007 sono chiuse 55 mila aziende e si è perso il 15% del potenziale manifatturiero. Allora, le vostre idee su questo? Guardi, noi eravamo insieme ai miei colleghi alla presentazione annuale, all'assemblea annuale di Confindustria e abbiamo ascoltato con molta attenzione le parole del Presidente Squinzi. Noi dopo quasi un mese da quel giorno siamo qui a dire al Presidente Squinzi che forse il Presidente Letta non ha intenzione di ascoltare le sue parole e allora lo invitiamo a parlare con noi e di alleguare con noi perché i 5 punti e le 5 proposte che lui ha chiesto ripetutamente e con forza al Presidente Letta forse non verranno mai portate avanti. Noi siamo l'unica garanzia in questo momento che queste proposte possano andare avanti. Su molti di questi punti ci siamo già espressi e quindi davvero noi oggi lanciamo l'invito al Presidente Squinzi per andare avanti su queste riforme. Per quanto riguarda il lavoro, oggi ho sentito le dichiarazioni del Ministro Zalonato così come quelle di Saccomanni. Possiamo anche smettere di parlare di vantaggi fiscali e cominciare a capire davvero come si crea lavoro e possiamo cominciare davvero a mettere mano ai contratti di lavoro? Io credo che ormai è passato un mese, quasi due, non ci sono proposte reali. Parliamo davvero di come creare posti di lavoro e di come mettere a posto questi contratti. Allora facciamolo insieme, chi meglio di Confindustria, visto che ha gridato a gran voce questa necessità. Noi siamo pronti. All'unanimità l'aula della Camera ha dato via l'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle che prevede la sospensione delle cartelle esattoriali da dove il debito nei confronti dell'amministrazione sia inferiore al credito. Su questo ovviamente sentiamone di più dall'onorevole Castelli. Sì, era un ordine del giorno necessario e siamo stati veramente contenti che questo sia stato cofirmato con le altre forze. Ma direi che tutto il lavoro che c'è stato dietro questo disegno e questo decreto è stato molto collaborativo insieme ai colleghi, proprio perché la necessità di pagare questi debiti era necessaria. Le aziende hanno bisogno di questi soldi. Ci sono però delle note dolenti che arrivano dal decreto che è tornato dal Senato, quali per esempio questo taglio fatto ancora una volta alle imprese in favore dei comuni che avevano pagato l'Imu sui propri immobili. E oltretutto c'è un taglio ulteriore su ricerca e università proprio quando in altri articoli si assicurava di non voler fare questi tagli. Quindi su degli interessi si sono usati in copertura, ricerca, università e di nuovo 8 per mille. Quindi abbiamo presentato anche su questo tema degli ordini del giorno. La cosa che noi non ci spieghiamo è come mai al Senato si faccia una cosa e alla Camera se ne faccia un'altra, quasi come se ci fossero due governi diversi e quasi come se il Presidente Letta fosse ignaro di tutto ciò, visto che lui stesso nel suo discorso di insediamento e anche in alcune reti televisive, forse la RAI, diceva a gran voce non taglierò mai su ricerca e università. Onorevole Castelli, le faccio un'altra domanda che così ci chiarisce una cosa che è stata molto mediatizzata, perché è uscita un'agenzia di Grillo che ricostruisce la storia di questa frase che lei ha detto ieri è nello stenografato della Camera dei Deputati nel suo intervento in riferimento da quello che dice Grillo, la frase è appunto sull'uso dell'olio di ricino e Grillo dice che era in riferimento alle ditte in odor di mafia, così recita l'agenzia, che inquinerebbero gli appalti della TAV. Ci vuole raccontare in 30 secondi, lei rispondeva ad un intervento di un onorevole leghista, come possiamo inquadrare questa sua frase? Intanto mi dispiace che non sia stata presa la mia agenzia, ossia quella in cui spiegavo come erano andati i fatti. La cerchiamo subito, io ho visto quella di Grillo, il leader del suo movimento. Certo, c'è un'agenzia a mio nome, era più semplice prendere la mia. In ogni caso va bene lo stesso e diciamo la stessa cosa. Quello che è successo ieri è che un deputato, proprio della Lega Nord, il deputato all'Asia, si riferiva nei nostri riguardi consigliandoci l'olio di ricino per capire meglio davvero che cosa c'è dietro alla questione del TAV. Allora io ho fatto il mio intervento di discussione rispetto agli ordini del giorno del TAV e mentre citavo un articolo di cronaca di Torino che titolava mafia dentro le grandi opere ho detto beh certo a questi attori, gli attori della mafia dentro le grandi opere, sì che darei l'olio di ricino. Riferito chiaramente alle parole dette dal deputato all'Asia. Dopodiché la strumentalizzazione di queste parole io non riesco ad imputarla dal momento che chi meglio di noi, Movimento 5 Stelle, che queste cose le dice da sempre può ringraziare un giornalista che le scrive, mafia dentro le grandi opere. Non ce ne sono molti che scrivono queste parole, per cui è proprio stato un fraintendimento credo voluto. Comunque facendo seguire la sua richiesta ho trovato la sua agenzia, a questo punto leggo le prime quattro righe, chi ha seguito il mio discorso è un'Ansa, in aula sulla TAV, ha potuto leggere lo stereotenografico in corso di seduta può facilmente constatare che il riferimento all'olio di ricino riguardava quelle ditte di mafia che inquinano gli appalti per la Torino-Lione. Così quanto dovuto. Allora c'è un'altra vicenda grave che è successa alle accederie di Terni, sconti tra agenti e operai. È stato ferito il sindaco di Girolamo che è stato colpito al capo durante una carica, ovviamente solidarietà da parte di tutti, bipartisan come si dice, e c'è anche Epifani che prende una posizione molto netta e dice non ricordo episodi simili. I punti da mettere in evidenza sono due, da una parte una storia che si continua a non voler affrontare ed è un discorso che per già troppi mesi va avanti e nessuno prende in mano nella maniera corretta e giusta. E dall'altra sicuramente non è la prima volta che lo diciamo, che lo dico, non c'è un rapporto tra il cittadino e la politica. La politica non vuole ascoltare il cittadino. E' quello che succede e nel caso di Ilva è successo per tante volte con le manifestazioni, con gli incontri con gli amministratori, i cittadini vogliono dire delle cose ben precise alla politica e agli amministratori e spesso non vengono ascoltati e spesso sono sordi. La politica è sorda, per cui io credo che questi siano davvero i risvolti rilevanti di questa faccenda che dovrebbe trovare una volta per tutte una risoluzione. Molte grazie Onorevole Castelli.